allora mini spesa suota la spesa sempre euro spin questa volta abbiamo preso poca roba ma dobbiamo ritornarci perché non avevo voglia di comprare tante cose e di riempire il carrello per cui faccio due video separati insalata 70 centesimi in offerta se non sbaglio ne ho presi 4 carote per i conigli pomodorini questo qua un euro e trenta no un euro e 72 pomodori quelli grossi poi ho voluto prendere questo per provarlo crema di parmigiano reggiano il gusto erbe ci pollino non so com'è i panini questo cui mele pera e mele pera e pera due di questi che praticamente la polpa che questi sono buoni arrosto di suine pancetta e talate di pati di polipo e pati e questo 5 euro il toma 341 formaggio altro formaggio siago 358 aglio ho ripreso gli hamburger con erba cipollina che questo erano buoni presi due pacchi salmone questi qua gnocchi e scromozzo formicato questo anche abbiamo preso che c'è il barbecue poi in questo qua faccio prima farvele vedere così allora qui abbiamo preso la coca al limone questo qua ho preso questo lo sciroppo di menta il succo la pera due crodini rossi sono lì poi il tè aloe vera la birra questa qui tè quello normale anche anche buono due di olive verde denocciolate che ovviamente erano in promozione per cui questi due altri tè poi ho preso un altro aperitivo rosso e due aperitivi arancioni poi in questo secchetto succo la pera ne ho presi due così poi ho preso questo ananas e cocco ho ripreso questo qua frutta più con pesca e mango lui ha preso limone lime a me non piace poi ho preso questo la panna montata per fare il freddo cino gazzosa questo è limonata e poi questo che ha il tela pesca infuso in più se noi abbiamo speso tanto con 35 euro di spesa avevi questo in regalo che praticamente è una borsa termica di 10 litri io l'ho presa rosa e azzurra 35 euro ma è piccolino poi ho preso l'anguria che l'ho pagata 11 euro e 12 poi anche se non c'entro niente io ho preso i gatti i due collari questi qua uno per la femmina e uno per il maschio con mangiare questo qua di 10 kg e 54 euro e 90 e le due salbie la lettiera due pacche di lettiera diverse queste qua che fanno la palla altre confezioni di bibite allora 4 di arancia e una confezione di tè infuso e poi per finire ho comprato un gatto vi piace il gatto? questo è il mio gatto no beh no intanto perché prima era dentro lì non so se si è visto prima comunque ho comprato due gatti uno e due non è vero sto scherzando ero in omaggio comunque se fate 35 euro di spesa vi regalano due gatti no non è vero va che scemo mamma mia è scemo vabbè ho fatto da del tutto in tutto questo questa è la spesa comunque scusate il casino scusate il video un po' dentro nell'acqua giustamente perché tanto chi se ne frega e questo è lo scontrino allora totale 100 euro e 78 vi dico i prezzi veloci comunque dal oggi domani se spendevi 35 euro avevi la borsa termica in omaggio allora calcolate che il tè la pesca 89 centesimi l'arancia vivita arancia 79 la coca cola limone 1 euro e 58 tè verde all'alloe 99 centesimi la birra 89 l'infuso di tè 1 euro e 05 la limonata 89 centesimi sciroppo menta 2 euro e 29 poi i crudini 1 euro e 59 gazzosa 89 centesimi succo la pesca 1 euro e 89 panna spray 1 euro e 79 bottiglia di ananas cioè la bevanda di ananas 1 euro e 29 per cui calcolate che tra il succo e coso sono 1 euro e 0 euro e 29 olive verdi 1 euro e 29 anguri 11 euro ho già detto mela pesca 39 centesimi aglio 1 euro e 20 scamozza affumicata 2 euro e 29 pomodoro l'ho già detto arrosto coppa 5 euro e 49 salmone 5 euro e 69 poi pollo 4 euro e 35 gnocchi di patate 99 centesimi pane 1 euro e 0,5 le carote 1 euro e 89 e basta credo che ho detto questo è lo scontrino questa è la spesa ci vedremo alla seconda parte del video perché vi dovrò fare vedere anche l'altra spesa che faremo perché i gatti sono pazzi perché giustamente non abbiamo fatto così tanta spesa abbiamo preso più bibite che tutto il resto e allora abbiamo deciso di fare due volte la spesa per adesso poi non lo so si vedrà detto questo noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo alla prossima parte ovviamente ciao ciao